Salus a 17 settembre 2010. Come potete immaginare, molti avvenimenti attendono in fila il momento di manifestarsi per portarvi la libertà, si susseguiranno in sequenza logica e rapida e apriranno la strada verso l'ascensione. Guardando indietro, scoprirete che le nostre proiezioni in merito agli attesi sviluppi, sono state abbastanza accurate. Sul momento, spesso non sapete cosa ricercare e solo in seguito potrete comprendere le connessioni tra determinati eventi. Vi rendete facilmente conto che, mirando ai risultati, le vicende sembrano scorrere lentamente, tuttavia occorrono numerosi pezzi per completare il puzzle. Al momento, ci avviciniamo alla meritata vittoria, che vedrà il primo dei tanti cambiamenti essenziali. Come sempre, siamo perfettamente pronti, essendoci preparati per questo momento con meticolosa cura. Siamo a conoscenza delle difficoltà personali di molti di voi ma, per favore, cercate di capire che non dureranno a lungo. Possiamo garantirvi che abbiamo la risposta a tutti i problemi, che affliggono il vostro mondo, non solo, ma abbiamo anche il personale e le tecnologie occorrenti. Desideriamo trasformare rapidamente l'idoneità della società a soddisfare le vostre esigenze in modo che, in tempi relativamente brevi, nessuno soffra più la fame o la sete. Ci sono delle priorità, che dovremo affrontare immediatamente per venire in aiuto alle popolazioni dei paesi più poveri. I paesi più importanti hanno maggiori responsabilità verso gli altri e, nel momento in cui il loro aiuto sarà necessario, nuovi uomini saranno al potere. Di certo, non si può affidare il vostro futuro alla vecchia cricca, che deve essere allontanata dal potere. Anche delle disposizioni legislative e di ordine pubblico dovranno essere riesaminate per garantire che abbiano effetto in modo equo e giusto. Conosciamo per nome tutti quelli che sono stati messi in prigione con false accuse, e saranno quanto prima liberati. Chi si è reso colpevole di delitti, sarà trattato più umanamente e con tecnologie avanzate intese ad eliminare le predisposizioni pericolose. Da tutto ciò potete farvi un'idea di quanta cura abbiamo dedicato all'elevazione del genere umano. Tutti parteciperanno alla nuova ricchezza, che sta per essere creata di colpo e gran parte dei problemi, che vi assillano sarà eliminata. Desideriamo che comprendiate quanto sarà fatto per voi nel quadro d'elevazione generale, una volta ben avviati i cambiamenti, sparirà la vostra dipendenza dalle vecchie fonti energetiche. Non dovrete più vivere soltanto entro risdetti limiti di bilancio familiare e l'energia gratuita provvederà, quando necessario, a tutte le vostre esigenze in termini di comodità e calore. Stiamo parlando di una nuova civiltà, che sarà pronta a spiccare un balzo nel futuro. Siete veramente privilegiati per vivere sulla Terra in questo momento e di condividere simili esperienze. Moltissime anime volentieri vorrebbero essere al vostro posto, per assistere alla fine della dualità e provare le gioie ancora a venire. Le informazioni da passarvi sono una montagna e miglioreremo la vostra capacità di assorbirle più velocemente. Alla fine, la vostra facoltà di ricordare sarà perfetta, ma questo accadrà soltanto con l'elevazione alle dimensioni superiori. La possibilità di aumentare la vostra memoria adesso dipende dal livello di coscienza raggiunto, scoprirete, infatti, che diventando più consapevoli, le doti psichiche diventeranno del tutto comuni. Infine, la telepatia sostituirà il ricorso alla parola, questo è quel che facciamo noi e la telepatia è accompagnata dalla possibilità di leggere il pensiero di cui, però, non bisogna abusare in modo indiscreto, e a ciascuna anima è dato di decidere se aprire l'accesso alla propria mente. Sicuramente qualcuno si opporrà al nostro arrivo, ma tale resistenza sarà soprattutto dovuta alla paura dell'ignoto. Non di meno, faremo tutto il possibile per disperdere tali timori e ci sentiamo capaci di rassicurare la gente che veniamo con intenzioni pacifiche e per il vostro bene. Allontaneremo anche qualsiasi sospetto di secondi fini, poiché le nostre intenzioni e azioni sono assolutamente trasparenti. Gran parte del nostro lavoro sulla terra verrà in accordo con i vostri nuovi governi e, come già detto, i mezzi di informazione riferiranno sul nostro operato. Non occorrerà molto tempo per dimostrare che veniamo per rinnovare la terra e restituirvi i vostri diritti legittimi. Per veloci che possiamo operare, dobbiamo chiedervi di aver pazienza per la soluzione di problemi individuali, perché all'inizio lavoreremo su un progetto inteso a migliorare le pessime condizioni più diffuse. Non promettiamo nulla di più di quanto potremo darvi e la portata del compito non ci spaventa affatto. Mentre si attende alle vostre necessità sulla terra, una massiccia operazione si svolgerà anche nello spazio, ripulendo l'atmosfera dall'inquinamento e spazzando via quella che chiamate spazzatura spaziale, e cioè i resti dei vari esperimenti svolti. Anche dall'alto è possibile monitorare con cura i cambiamenti all'interno e sulla terra e vi daremo i consigli del caso qualora una qualsiasi forma di pericolo vi minacci. Uno dei cambiamenti più evidenti sarà la libertà di stampa e dell'informazione televisiva, quindi quanto stampato e trasmesso corrisponderà alla verità? Finora i media sono stati talmente controllati che, di fatto, vi sono state propinate solo le informazioni conformi a quanto gli Illuminati volevano farvi credere, e tutte le notizie sono state deliberatamente fabbricate a tal fine. Da molti anni, la verità è stata merce rara e i vostri governanti devono prendersela solo con se stessi per la vostra mancanza di fiducia in loro. Con i nuovi governi, tutto questo cambierà e non ci vorrà molto per convincervi che è emerso un nuovo tipo d'uomo politico. Il bene della popolazione sarà il loro unico scopo, e l'onestà sostituirà la corruzione ormai rampante. In senso lato, il crollo della vostra civiltà è dovuto alle basse vibrazioni sulla Terra, che hanno attirato anime di pari livello vibratorio. Al contrario, le vibrazioni più elevate, apriranno la strada affinché persone più elevate possano presentarsi a voi. L'uomo può farsi leggi proprie, ma le leggi universali sono supreme ed immutabili. Esse si fondano sull'amore, la giustizia e la condivisione, affinché ogni civiltà rispetti i diritti delle altre. La Federazione Galattica ne è un esempio ed ogni civiltà che ne fa parte opera in armonia con tutte le altre. Nel prossimo futuro, anche la vostra civiltà raggiungerà tali livelli e l'ascensione è un'importante pietra miliare lungo il percorso. Noi distiamo conducendo verso l'amore e la luce, che cambieranno per sempre alla vostra vita. Grazie, Salu Sà. My Queen 6 Traduzione Costanza 2003